buongiorno eccomi salve signorina benvenuta venga di qua mi fa vedere come fa un bel caffè prego signorina faccia vedere socio assunta ah assunta? signorina assunta guardi io veramente mi chiamo martina licenziata dai si pronto eh martina guarda mi ha chiamata adesso che si è sentita male ma potresti venire a coprirmi il turno lo so che oggi riposi guarda e verrei con tutto il cuore ma guarda sono proprio incastrata dal dottore c'è una fila tremenda non posso proprio aiutarti ah ok va bene niente grazie ovunque di niente ma che ci va a fare due cappuccini? ciao allora volevo un cappuccino di soglia decaffinato al vetro con poca schiuma mi raccomando salve buongiorno con latte macchiato non troppo caldo non troppo freddo con il caffè d'orzo grazie salve un cappuccio decaffeinato con latte hd grazie ciao allora un caffè lungo macchiato di soglia con cinta caffè a portavia grazie salve potrei un caffè già sta in macchina signorina ah grazie ma ahahah mi scusi eh ma dove stas sto caffè in macchina? signorina in macchina ahahah sciocchina Salve vorrei fare con lezione Buongiorno signorina certo ma che cosa la vedo triste Guarda è che la giornata è cominciata proprio male c'è una sfortuna addosso oggi Ma non si preoccupi signorina adesso le do un bel cornetto della fortuna ecco qua Scusa socio? Scusi ma questo è un semplice cornetto? Eh no è qui che si sbaglia lo provi e domani mi dirà Ah ok se lo dice lei grazie Salve buongiorno ma le devo dire che lei aveva davvero ragione E che le avevo detto facciamo un altro cosetto anche oggi? Ma è ovvio verrò sempre qui a fare colazione grazie